Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Lore, story, plot sono termini che sentiamo spesso utilizzare ma molto spesso vengono usati a sproposito. Ora fin tanto che si tratta di usare una parola al posto di un'altra causa confusione e sarebbe da evitare ma nella realtà poco male. Il problema è che molto spesso queste parole vengono proprio confuse tra di loro e questo può causare proprio errori nella scrittura e nella gestione della quest quando dovete andarla poi a mettere al tavolo. Quando vi mettete a scrivere una quest dovete tenere presente questi tre elementi, sapere cosa sono, a che cosa servono, quali sono le differenze tra i loro e qual è il modo migliore per usarli per scrivere la vostra quest. Quindi questa settimana andiamo a parlare proprio di questo. Iniziamo dicendo che nonostante esistano delle traduzioni italiane di questi termini, quando si parla di aspetti tecnici della narrazione, normalmente anche in italiano vengono comunque utilizzate in inglese. Questo per evitare confusione. C'è una differenza tra dire raccontami la storia come aspetto tecnico rispetto a raccontami una storia, nel senso raccontami una favola. Per quanto riguarda la lore, tra l'altro non esiste neanche una reale traduzione in italiano. A volte viene tradotta come retroscena, altre volte come ambientazione, ma nella realtà entrambe le traduzioni sono scorrette. Cominciamo con lo story. Quando si parla di story si intende l'elenco normalmente cronologico di tutti gli eventi che sono presenti all'interno del racconto. In pratica nello story sono raccolte tutte le scene che fanno parte della vostra quest. Gli avventurieri stanno nella locanda, gli avventurieri marciano nella foresta, gli avventurieri combattono contro il drago. Se stessimo parlando di un racconto in generale, di un romanzo, di una storia, lo story comprenderebbe tutte le scene del racconto. Quando invece parliamo di gioco di ruolo nello specifico, le uniche scene importanti per lo story sono quelle in cui sono presenti i giocatori, quando sono presenti i personaggi giocanti proprio. Tutto quello che avviene al di fuori del gioco reale, cioè di quello che hanno effettivamente fatto i giocatori durante la storia, non è rilevante ai fini dello story. La maggior parte del vostro lavoro come master probabilmente è legata proprio allo story. Normalmente quando cominciate a scrivere una quest avete in mente un paio di scene particolarmente interessanti che vorreste riuscire a far emergere dal gioco e da lì cominciate a scrivere tutto il resto. Quella è proprio la base dello story. Lo story è anche l'elemento in cui i giocatori danno il maggiore contributo. Come ho detto solo le scene in cui sono presenti i giocatori sono rilevanti alla fine dello story. Quindi sullo story voi come master non avete il controllo completo, anzi molto probabilmente la gran parte di quello che avverrà nello story è qualcosa che è emerso naturalmente dalle interazioni tra i giocatori e la quest che stanno giocando. Se lo story è l'elenco di tutte le scene presenti all'interno del racconto, il plot o se preferite la trama e quello che lega assieme queste scene in una maniera logica. Gli avventurieri arrivano alla locanda e sentono parlare del tesoro del drago, gli avventurieri marciano nella foresta alla ricerca della tana del drago, gli avventurieri trovano la tana e quindi combattono contro il drago per rubargli il tesoro. Anche se apparentemente le scene che compongono lo story e la logica che delega tra i loro sembrano indissolubili, in realtà non è vero. Gli avventurieri alla locanda si vantano della loro imprese di uccisori di draghi. Un drago viene a saperlo e quindi li insegue nella foresta in cerca di vendetta. Il drago raggiunge gli avventurieri, li mette con le spalle al muro e i due gruppi combattono. Stesse identiche scene, plot diametralmente opposto. Per quanto riguarda il gioco di ruolo la principale differenza è che se lo story è sempre palese per i giocatori e composto dalle scene in cui loro sono presenti, il plot molto spesso non lo è. Non è necessario che i giocatori siano a conoscenza delle motivazioni che hanno portato a quelle scene a svolgersi come li sono svolte. Anzi, molto spesso capire qual è il plot della quest è proprio il motore propulsivo del gioco dell'intero racconto. I giocatori non sono coscienti neanche del proprio stesso plot in realtà perché per quanto ogni giocatore possa avere un retroscena delle motivazioni personali per il suo personaggio quasi sempre il master poi integra queste singole storie dei singoli personaggi all'interno del plot generale della quest quindi è probabile che cose importanti per la logica dello sviluppo del personaggio siano conosciute solo dal master e neanche dal giocatore che effettivamente gioca quel personaggio. La lore è l'insieme di tutte quelle informazioni che non fanno direttamente parte della storia ma servono a rendere il mondo di gioco più dettagliato e fondamentalmente più verosimile. La locanda dell'oca dorata è famosa per i suoi pasticci di cacciagione e perché è l'unico posto in tutto il reame in cui si può trovare l'originale birra dei nani. La foresta di Forraombrosa una volta conteneva una ricca civiltà società di folletti ma negli ultimi anni la maggior parte di loro ha abbandonato la foresta. Scarbrad il drago rosso è temuto in tutto il regno per le sue razzie ai villaggi e perché durante la battaglia del fiume di sangue cercò di uccidere il padre dell'attuale re. Tutte queste informazioni rendono più bello il mondo ma in realtà non sono indispensabili né rilevanti per quanto riguarda il gioco vero e proprio. Nonostante molti master siano innamorati del proprio lore e cerchino di inserirlo il più possibile, tutte queste informazioni sono secondarie. Nel gioco vero e proprio per i giocatori è molto più interessante sapere quanti sono gli orchi che gli stanno attaccando e che cosa c'è dietro quella porta blindata che sapere il retroscena della civiltà degli orchi o che quella porta è stata creata duemila anni fa dal famoso artigiano dei nani. Nonostante questo però non è un elemento che possa essere ignorato o sottovalutato. Se la storia non è supportata da una buona lore, il mondo sembrerà vuoto e fondamentalmente finto. Si avrà quella sorta di effetto videogioco in cui le cose accadono semplicemente perché ci sono dei giocatori e quindi devono accadere delle cose. Senza una lore di base, dicevo, il mondo non ha verosimiglianza. I posti hanno nomi, i PNG hanno nomi, i regni hanno nomi, i regni hanno bandiere, i simboli sulle bandiere hanno dei significati e non sono tirati a caso. Se due regni entrano in guerra ci devono essere delle motivazioni e dei fatti precedenti che giustificano l'ostilità tra i due regni. Ma anche solo il malvagio signore dei leech non cerca di distruggere il villaggio perché ha avuto una giornata storta. Avrà delle sue intenzioni, avrà delle sue motivazioni e tutto questo fa parte della lore. Il master non dovrebbe essere solo in grado di fornire queste spiegazioni ai giocatori nel caso la richiedano e di fornire informazioni di loro sul mondo che li circonda. Se i giocatori vedono un villaggio e chiedono cosa sia quel villaggio, come si chiama il villaggio e per quale motivazione il villaggio è lì e non altrove, il master anche a grandi linee però dovrebbe comunque saperlo. Altrimenti, come dicevo, si ottiene un mondo finto e questo renderà molto difficile per i giocatori medesimarsi nei personaggi ma anche semplicemente renderà la storia non interessante perché non si è riusciti a venderla. Quando scrivete una quest partite sempre dallo story, decidete quali sono le scene che vogliate che in quella quest vengano inserite e lavorate partendo da quelle per espanderle usando ovviamente il processo di decostruzione delle idee di cui abbiamo parlato l'anno scorso. Vi lascio il video qua su in alto nel caso dobbiate recuperarlo. Una volta che avete ferme in testa le scene che volete appaiono nel racconto, cominciate a lavorare sul plot in modo da collegarle logicamente le une con le altre. Questo sia per rendere la storia coerente e non renderla semplicemente una serie di immagini slegate tra di loro, sia per rendere possibile ai giocatori di seguire naturalmente il flusso del discorso facendo un ragionamento logico. Non siate troppo rigidi, di questo ne abbiamo già parlato anche in questo caso l'anno scorso, se no rischiate di spezzare il binario, cioè creare una quest in cui la narrazione può procedere solo nel caso in cui i giocatori facciano esattamente quello che avete previsto esattamente nel modo in cui voi lo avete previsto e questa è la ricetta per il disastro. Tenete il plot più flessibile possibile in modo che possa adattarsi alla maggior parte se non tutte le possibili scelte da parte dei giocatori durante la storia e che possa integrare le scene aggiuntive che sicuramente i giocatori con la loro interazione con la storia andanno a creare. A questo punto una volta che avete tutte le vostre scene preparate, lasciato lo spazio per possibili scene dei giocatori e collegato il tutto da una trama coerente con il plot, date al tutto una bella patina di lore per rendere verosimile e rendere interessante il racconto. Fate in modo che tutti gli elementi che sono presenti sono giustificati, che ogni png abbia un nome, che ogni villaggio abbia un nome, che oggetti, cose, astronavi, nemici, comunque abbiano quel minimo in retrocena per renderli interessanti per i giocatori, ma evitate di strafare. Questo è un problema serio che affligge molti master che si concentrano troppo sulla lore rispetto ad altri argomenti. È un discorso lungo, merita un video a parte, piuttosto ne riparliamo tra un paio di settimane, non voglio strafare adesso. Per adesso diciamo che scrivete la lore che serve a giustificare gli elementi della vostra storia, o se usate un'ambientazione prefatta, qualcosa del genere, andatevi a ricercare la lore che giustifica quegli elementi, ma non andate al di là di questo per quanto riguarda la preparazione della partita. Diciamo che per questo video è tutto. Settimana prossima ci sarà lo speciale per il complanno del canale. Ringrazio tutti quelli che hanno inviato le loro domande. Io probabilmente, mentre voi state vedendo questo video, starò montando il video della settimana prossima, quindi fatemi in bocca al lupo. Per quelli che non hanno ancora inviato le domande, mi dispiace signori, ormai siete fuori tempo massimo, se ne parlerà per l'anno prossimo, però nel caso fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate di questo video, se conoscete questo metodo, se utilizzate un altro metodo, perché utilizzate un altro metodo, ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale, schiacciate dal tasto con la campanella se non volete perdervi le notifiche. Io sono il Master CAE, noi ci vediamo al prossimo video.